Il freddo ha fatto la sua prima vittima, si tratta di un 72enne italiano che dormiva all'interno di un'autovettura in un parcheggio nei pressi della regione Lazio in Verchistoforo Colombo. Con l'abbassamento delle temperature il Campidoglio sta mettendo a punto il piano freddo. Dal prossimo mese di dicembre saranno 12 le strutture dedicate all'assistenza delle persone che solitamente dormono in strada, per un totale di circa 3.000 posti, il 30% in più dello scorso anno. Si tratta di centri dislocati nei vari municipi dove si dovranno trovare posti letto, servizio docce, vestiario, un pasto caldo serale. Prima colazione, assistenza medico-sanitaria. Da segnalare anche 8 unità mobili della Sala Operativa Sociale, il cui numero verde per le emergenze è 800-44-0022.